Non era neanche un sogno, è una cosa pazzesca quello che si è verificato, soprattutto tenendo conto che è l'attacco migliore del campionato, che credo sia un altro record che l'Atalanta ha fatto. Meglio di così, onestamente, è inimmaginabile, impensabile, non mi sembra vero e quindi continuiamo a sognare. Non era facilissima la partita contro il Sassuolo, il risultato racconta di un altro film, ma forse, insomma, poi quando l'Atalanta dilaga, dilaga. Sassuolo, che comunque pare i punti all'Atalanta, con ambizioni forse uguali a quelle dell'Atalanta. Una buona squadra, tant'è che aveva rimontato bene e abbiamo anche rischiato, poi aveva fatto una gran parata, poteva essere il pareggio, dopodiché abbiamo fatto il quarto gol e da lì siamo andati in discesa. Però è una squadra molto forte, una squadra che farà molto bene ed è una nostra antagonista. Presidente, che dire di questa Atalanta, che dire di questi giocatori? Perché poi i record, questa Atalanta li sta migliorando di partita in partita. Zapata è andato in doppia cifra, Ilici ci ha segnato una tripletta, il Papu segnano i difensori, Atalanta miglior attacco del campionato. Atalanta che ha segnato nella sua storia, in questo girone di andata, più gol, insomma altro record in fronte. Che dire, che chiedere? Più di così non credo ci sia nient'altro. Oggi abbiamo toccato il massimo anche sotto questo aspetto e quindi devo dire grazie al mister, grazie ai ragazzi fantastici, grazie a tutti quelli che lavorano all'Atalanta, a tutto lo staff e a tutti i dipendenti e soprattutto un grazie di vero cuore, si è visto oggi la differenza. 2.000 tifosi, più di 2.000 tifosi. Tifosi stratosferici, straordinari e veramente dico loro un grande abbraccio, fatti bravi, buone feste, buon anno e Forza Atalanta! Grazie a tutti!